Cassano ci sta dando moltissimo, non soltanto sotto l'aspetto del gioco, ma la cosa non è che debba meravigliare, però è veramente una sorpresa ancora maggiore, sotto l'aspetto della collaborazione con l'allenatore, con la squadra. Quando dico che è saggio, sinceramente ci sta dimostrando molto saggio e ci fa un gran piacere, oltre che essere un giocatore, un uomo di un buon spessore. Cassano è un artista, quindi quando un artista comincia a funzionare bene, c'è il periodo giusto, ti puoi aspettare di tutto. Devo dire che quello che ci fa più piacere è che non soltanto stia giocando bene, ma che ci sembra felice, allegro, ben inserito, di che è molto utile non soltanto a se stesso ma a tutta la squadra.